cari amici del forum eccoci qua per un esperimento un esperimento nell'esperimento siccome quest'anno tenterò l'impollinazione incrociata tra un peperone dolce marconi rosso e un super hot su questi semi verrà effettuata la scarificazione meccanica la scarificazione meccanica consiste nel assottigliare lo spessore del tegumento per accelerare l'imbibizione del seme da parte dell'acqua questa operazione verrà effettuata con una levigatrice orbitale su cui sono stati fissati due vasetti con degli elastici regolatore di tensione semi e sabbia silicea adesso andiamo a operare allora una volta inseriti semi e sabbia silicea all'interno dei due vasetti andremo ad aggiungere ancora un pochino di sabbia e accendiamo attraverso il regolatore di tensione l'apparecchio adesso i semi con questa vibrazione verranno abrasi dalla sabbia silicea e verrà assottigliato il tegumento tra un'ora vedremo la situazione